Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti in questo bel teatro Orione di Roma che oggi accoglie lo spettacolo conclusivo di un'importante giornata che ci ha permesso di vivere una vera spiritualità. Momenti intensi ed emozionanti ci sono stati donati grazie alla possibilità di partecipare ad un evento unico, la beatificazione di Marbre Greggia Merloni, apostola. Apostola e fondatrice del Sacro Cuore di Gesù. A tal proposito vorremmo sottolineare l'importanza di questo spettacolo, nato e realizzato grazie alla passione dell'apostolo del Sacro Cuore di Gesù, provenienti da diversi luoghi come Avinzano, Casa Nuovo, Roma, Stati Uniti e Brasile. E ringraziare tutti i collaboratori dell'apostolo che hanno permesso. Doverosi sono alcuni ringraziamenti ed il primo va alla Madre Generale, Madre Miriam Cugna Sobrigna. Ringraziamo altresì la Madre Provinciale, Suor Leda Pieropan, il Consiglio Provinciale. Ringraziamo anche le Suore di tutti i continenti nei quali gli Apostoli e il Un grazie di cuore a tutti i voi presenti per aver partecipato numerosi a questo importante e straordinario evento. Iniziamo ora lo spettacolo con un omaggio a Madre Clelia. Il coro Madre Clelia di Casa Nuovo di Napoli canterà Suoro Reata e seguirà un Madre Clelia, dirige il maestro Assuntino Esposto, all'organo il maestro Giulio Franco, alla chitarra il maestro Gianni Mobiglia. Buon ascolto! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 ti aspetto. a tutti. è stato questo. il passaggio. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a 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 tutti. figlio. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. la vita. a tutti. a tutti. a tutti. che. 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 mi? a tutti. a tutti. figlio. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tra. a tutti. 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 la a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. ti. a tutti. 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 che. tutti. a tutti. tutti. a 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 tutti. . a tutti. 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 se a tutti. a tutti. a tutti. mi confetti. mi calmo. a tutti. 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 qui. a tutti. 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 a tutti. tutti. a 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 tutti. tutti. a 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 tutti.